Anche grazie al suo prezioso contributo, tantissimi amministratori locali di Forza Italia agli stati generali che sono stati convocati a Caserta, un risultato incoraggiante anche se il partito a livello nazionale non naviga in acque tranquille. Il commissario Sarro sta iniziando un lavoro molto duro di rifondazione di Forza Italia di provincia di Caserta ma soprattutto stiamo facendo un duro lavoro di preparazione di una classe dirigente in tutta la provincia di Caserta perché noi immaginiamo Forza Italia come il partito dell'ascolto, anche perché se vediamo oggettivamente le cose, se andiamo a considerare oggettivamente le cose. Ebbene, il governo di Forza Italia e soprattutto del presidente Berlusconi è stato il governo che ha raggiunto i maggiori risultati nel contrasto alla lotta alla criminalità organizzata. Questo è indiscutibile ma soprattutto per cui noi che ci sentiamo il partito della legalità e soprattutto in provincia di Caserta, ci sentiamo il partito della legalità in quanto vicende che nulla hanno a che fare con la politica ma che riguardano determinati ambienti, hanno inquinato il buon nome di un partito che è rappresentato da tante gente per bene. Io dico che Caldoro, secondo me, visto che l'ho vissuto da vicino, è il miglior governatore di regione d'Italia. Perché se guardiamo il punto di partenza del presidente Caldoro, perché noi dobbiamo dire che cinque anni fa questa regione era in default completa, era in fallimento, con un fondo di cassa pari a zero. Questi sono i fatti. E essere riusciti in questo contempo a risanare la sanità e quindi a uscire fuori dal commissario a fare 12 provvedimenti e leggi che hanno costituito il presupposto perché Caldoro, che secondo noi è il presidente migliore di tutte le regioni, miglior presidente d'Italia, Caldoro su questo ha costruito e ha diritto a rappresentare ancora la regione Campania nel consesso nazionale. perché riteniamo che Caldoro è tutta la classe dirigente di Forza Italia e anche dei partiti alleati. Che ne dica qualcuno? Tipo Giuseppe De Amida che sostanzialmente fa con degli articoli tutti e non fa altro che voler coprire delle cose che riguardano solo pure spartizioni di potere. Questa è la realtà di cui si sta discutendo in questi giorni. Si riferisce all'ipotesi che l'Udc molli il centrodestra per allearsi con il centrosinistra? Questa è un'ipotesi da parte dell'Udc che viene paventata da tanto tempo ma non è altro che sostanzialmente delle proposte di spartizione di potere che ben sono conosciute da chi da Avellino dirige le fila. Ci fa qualche esempio? Non lo so, se teniamo presente qual è l'interesse peculiare che c'è stato sempre da parte del nominato Giuseppe De Amida perché De Amida è stato nominato e quindi da chi il suo illustre parente praticamente lo dirige. Per cui sostanzialmente parliamo di cose che nulla hanno a che fare con la gente, nulla hanno a che fare con il territorio. Noi abbiamo la coscienza pulita, possiamo riproporci come classe dirigente di questa regione, noi in provincia di Caserta, altri in altre province. Abbiamo tutti i titoli, tutte le qualità, tutte le capacità ma soprattutto in provincia di Caserta con questa cabina di regia permanente noi intendiamo fare delle proposte che competono alle professionalità presenti sul nostro territorio ma che ci ridiano una dignità che negli ultimi tempi è stata calpestata. Questa è la realtà.